Caccia al topo virtuale per gatti annoiati. Se avete difficoltà a tenere il micio in casa, la iPad Cat potrebbe fare al caso vostro. Il sistema è semplice, l'applicazione si lancia automaticamente e parte la caccia. Un gioco frenetico e coinvolgente che mantiene il gatto occupato e lascia i padroni a bocca aperta. L'iPad si trasforma in una superficie dove corrono i topi e il gatto di casa deve difendere il formaggio. L'applicazione è gratuita ed è stata messa a punto da un'università australiana. Per non rovinare lo schermo è però meglio applicare una bella pellicola antigraffio prima che il temibile felino preso dalla foga della caccia non segni irrimediabilmente il tablet.